Tempo di anteprime a Cracovia, mentre nella piazza del mercato, la più grande d'Europa, arrivano la spicciolata, i presepi che da sabato saranno in mostra e che partecipano al concorso lanciato nel 1937 per impedire che scomparisse questa forma artistica unica che si tramanda nelle famiglie e nelle scuole di anno in anno e di generazione in generazione, all'Istituto Italiano di Cultura è cominciato l'allestimento della mostra dal Canavese a Cracovia, mostra della memoria storica e culturale del Canavese, che racconta le nostre radici, la nostra terra o i nostri alberi che diventano arte, la manualità rappresentata dal lavoro del rame, la capacità di andare verso il futuro con l'Olivetti o la Fiat, la cultura popolare da raccogliere e rileggere anche nei piccoli gesti quotidiani. E domani sera l'inaugurazione, mentre sabato mattina saremo all'inaugurazione della mostra dei presepi di Cracovia. Grazie.